Benvenuti o bentornati sul canale di informazione scientifica sulla nutrizione per la salute. Sono il dottor Oricchio Gennaro, biologo nutrizionista. In questo episodio vi parlo di come sviluppare una mentalità da biohacker, corpo e mente al massimo della loro capacità. Le informazioni contenute in questo episodio hanno valore puramente informativo, non intendono sostituirsi alla consulenza del medico o del biologo nutrizionista. La mia missione è fornire contenuti gratuiti che supportano il vostro scopo primario nella vita, che è la vostra ricerca costante verso uno stile di vita sano. Credo fermamente che il benessere e la ricerca della salute fisica e mentale siano un viaggio, non una destinazione. La conoscenza è potere, specialmente quando si tratta della nostra salute. In questo episodio vi parlo di che cos'è il biohacking, la mentalità da biohacker, i sette passi chiave da seguire per sviluppare questo tipo di mentalità, educarsi costantemente, sperimentare responsabilmente, monitorare e misurare, personalizzare la tua alimentazione, ottimizzare il sonno, gestire lo stress, condividere con altri. Se hai bisogno di aiuto per risolvere i tuoi problemi di peso, contattami. La prima consulenza conoscitiva è sempre gratuita. Trovi i miei contatti in descrizione. Cos'è il biohacking? Il biohacking è un movimento che si concentra sulla ricerca e applicazione di strategie per migliorare la propria salute, le prestazioni fisiche e mentali attraverso l'uso di scienza, tecnologie e alimentazione. Il biohacker cerca di ottimizzare il suo corpo e la sua mente per raggiungere il massimo delle loro potenzialità. La mentalità da biohacker. Per sviluppare una mentalità da biohacker è necessario adottare una serie di abitudini e approcci che consentono di ottenere risultati tangibili. Qui vediamo adesso i sette passi chiave da seguire. Primo, educarsi costantemente. Un biohacker deve essere un eterno studente. Rimani costantemente aggiornato sulle ultime scoperte scientifiche in materia di nutrizione, fitness e salute. Investi tempo nell'educazione continua per prendere decisioni informate. Sperimentare responsabilmente. Il biohacking comporta l'esperimento e l'adattamento. È essenziale farlo in modo responsabile e sotto la supervisione di un professionista della salute, un medico, un biologo nutrizionista. Non provare mai approcci e temi senza la giusta conoscenza e supporto. Monitorare e misurare. Utilizza strumenti e dispositivi per monitorare la tua salute e le tue prestazioni. Questo ti aiuterà a identificare i cambiamenti e i miglioramenti nel tempo. Misura parametri come la frequenza cardiaca, il sonno, il peso, l'apporto calorico e i livelli di energia. Personalizzare la tua alimentazione. Non esiste una dieta universale che funzioni per tutti. Sperimenta con diversi regimi alimentari e scopri cosa funziona meglio per te. Potresti considerare di adottare una dieta basata sui tuoi obiettivi specifici, come la perdita di peso, il guadagno muscolare o la migliore cognizione. Ottimizzare il sonno. Il sonno è fondamentale per la salute e le prestazioni. Assicurati di ottenere una qualità di sonno di quantità e qualità adeguata e cerca di migliorare la tua igiene del sonno. Questo può includere la creazione di un ambiente di sonno confortevole e l'adozione di una routine serale rilassante. Gestire lo stress. Il biohacker comprende l'importanza della gestione dello stress. Pratica tecniche di gestione dello stress come la medinazione, lo yoga o la respirazione profonda, per mantenere un equilibrio mentale e fisico. Condividere con altri. La comunità biohacker è una risorsa preziosa. Condividere le tue esperienze, apprendimenti e successi con altri biohacker. La condivisione di conoscenze può aiutarti a scoprire nuove strategie e a affinare le tue abitudini. Sviluppare una mentalità da biohacker è un impegno verso il miglioramento personale continuo. È un processo di apprendimento, adattamento e sperimentazione continuo che può portare a notevoli miglioramenti nella tua salute e nel tuo bere essere complessivo. Ricorda sempre di consultare un medico o un biologo nutrizionista prima di apportare cambiamenti significativi alla tua dieta o al tuo stile di vita. Inizia oggi ad abbracciare la mentalità da biohacker e scopri quanto puoi raggiungere quando metti la tua salute al primo posto. Grazie per l'attenzione.